E allora eccoci di nuovo a Classic Garage, prima dell'interruzione pubblicitaria parlavamo di un problema legato alle cosiddette targhe rifatte a proposito di questa splendida Abarth 595 che ci ha portato Mimmo Leone. Torniamo a parlare un po' della vettura, abbiamo detto molte cose, abbiamo detto che ci sono tanti, passateci il termine, tarocchi in giro perché trasformare una 500 d'epoca in una Abarth coeva non è così difficile, almeno a livello così estetico e le quotazioni invece subiscono un cambiamento enorme, questo esemplare può essere quotato tra i 20 e i 30 mila euro senza scandalizzare nessuno. Come si fa a riconoscere la parte della certificazione Abarth di cui ci parlavi, il club, il registro storico, però così, se uno è interessato all'acquisto di una vettura del genere, cos'è che deve guardare per essere sicuro che non è una sola, come dicono qui a Roma? Innanzitutto, come ho detto prima, bisogna avere questo certificato, diciamo che dà il registro italiano Abarth, un certificato di origine della macchina. Però potrebbe anche non essere stata censita la vettura? Potrebbe non essere stata censita, in questo caso vanno controllati i numeri sul motore, dove c'è la stampigliatura Abarth, i soliti numeri del telaglio, c'è un solo trucco, un trucco solo, un segreto, a noi ci interessa quello, il segreto è uno solo, i numeri si rifanno, il segreto è uno solo, il cruscotto della macchina, sembra strano ma spiego bene il motivo, siccome queste macchine montavano un cruscotto multifunzione, molto più grande di quello originale, a tre strumenti mi sembra, a quattro strumenti, l'Abbarth quindi che cosa faceva? La casa costruttrice effettuava un taglio molto preciso intorno al foro originale della macchina come usciva dalla Fiat e creava un piccolo bordino di appoggio per il cruscotto, tutte quelle false le vedi subito perché quando effettuano il taglio, il taglio rimane netto, non ha più il bordo fatto apposta che faceva la casa costruttrice, quello non viene replicato da nessuno perché è una cosa molto particolare e sembra strano ma è l'unico punto dove nessuno riesce ancora a fare la replica di quel taglio. Speriamo che dopo questa trasmissione qualcuno non si organizzi a fare il bordino. Ti posso dire che è molto difficile, ma la sua forma è molto particolare, quindi basta aprire il cofano davanti, seguire la linea del cruscotto, mettergli un dito lì sotto e si sente se c'è il bordino. Non lo sapete, non è? Certo guarda quando sento quella quotazione che non conoscevo onestamente, sono rimasto favorevolmente impressionato però perché è una macchina che vedevamo girare, trovo giusto che abbia la quotazione adeguata alla storia della vettura. Adesso perché anche quelle originali Fiat hanno la quotazione molto alta, quindi automaticamente le Abarth e ricordiamo, vorrei spezzare una lancia anche alla Giannini Roma, che faceva delle 500. Che spero di portare in trasmissione, spero di portare proprio il capostipite. Anche le Giannini erano macchine elaborate, anche quelle hanno raggiunto quotazioni molto alte, non a livello delle Abarth, siamo leggermente inferiori, però molto alte. Che differenza c'era? Che peccato però, tutta questa storia italiana sia un po'... Abarth per carità è stata acquistata da Fiat e adesso sta andando anche bene su certi mercati, però è un'altra cosa rispetto a quello che erano questi piccoli costruttori quando erano indipendenti. Volevo ricordare un piccolo particolare, sempre per l'Abarth, ricordiamo che l'Abarth forniva la famosa cassetta di trasformazione. Era un kit completo, chiuso in una cassetta di legno. Lo fa ancora l'Abarth di oggi. Lo fanno ancora oggi per le nuove 500. Hanno un po', diciamo, preso l'idea dal Carlo Abarth, che già all'epoca aveva avuto una giusta intuizione perché permetteva con questa cassetta di trasformazione in qualsiasi officina di trasformare una 500 normale con il motore Abarth, mettendo tutti i pezzi necessari. Quindi era la portata di tutte le officine e di tutti i meccanici. Non è che tu dovevi compare per forza l'Abarth da lui, potevi anche godere del suo kit e delle sue prestazioni facendole montare dal tuo meccanico di fiducia. Rimaniamo in tema... Avevo rimosso, ho avuto un flash improvviso. Quando hai detto kit che potete montare da soli, ho avuto un flash di questa cassetta pubblicizzata e che era possibile veramente farsi montare da un meccanico con un minimo di esperienza. E a proposito dei meccanici di fiducia, un termine che ricorre spesso perché veramente per chi ha l'amore e la passione per l'auto d'epoca, se non hai un meccanico di fiducia talvolta neanche più uno, a seconda anche delle vetture più fortunate, eccetera, e non sai veramente poi come mettere le mani. perché una cosa dobbiamo dire, non pensate di far la manutenzione, di far riparare le vostre automobili d'epoca dall'officina sotto casa, se il proprietario o il titolare non è veramente un appassionato, perché o da un concessionario, si tratta di tutto un altro approccio, penso che su questo sarete d'accordo. Totalmente diverso. Qui c'è anche Giuseppe che è meccanico di fiducia proprio dei padroni di casa, qui dell'All Cars. Giuseppe, hai messo mai le mani su un Abarth? Posso dire prima una cosa che ho visto stamattina fare a Giuseppe? Cosa ha fatto? Allora, vedevo che stava tagliando un pezzo di legno, sentiva un rumore sull'appia, diceva sono punterie, oppure qual era il dubbio che fosse, oppure la distribuzione, ha preso questo, praticamente un tronco di legno e tipo stetoscopio l'appoggiava nei vari punti del motore, questa cosa, questa cosa veramente mi ha commosso. Si faceva così. Si faceva così. E' così. Allora, insomma, su un Abarth, ti hai capito non mai di mettere le mani? Sì, sì, ho anche modificato i 500 per fare diventare Abarth, molte. E quindi, e poi invece una cosa che... Era la macchina del momento. Era facile lavorarci? Sì, insomma, uno copiava, molto si copiava. Adesso, con tutta questa elettronica, ne parlavamo un po' con Mimoleone qualche settimana fa, e quando queste vetture oggi dotate di centraline, di mappature, invecchieranno e faranno comunque protagoniste anche loro della storia, sarà molto più difficile metterci le mani? Ma io penso che... Sicuramente meno affascinante di sicuro, certamente non troveremo nessuno. Non serve più il meccanico, non serve più il meccanico. E' informatico. E' non serve più il meccanico. che sta a mettere bene sulla centralina, perché adesso la macchina... Anche con i ligami non si aggiustano più, perché adesso vanno le baratte tutte intere. La poesia è finita. Rimangono belle, affascinanti. Il preparatore Mimmo è diventato un'altra cosa. Tu si fai anche le corse, adesso si prepara in maniera differente. Sulle corse sì, logicamente si prepara in maniera differente. Ancora lì, nel campo competizioni, l'estro, l'inventiva, la capacità di costruire pezzi, ancora conta. Certo, sulle macchine normali, devo dire che il tipo di riparazione è totalmente diverso. Praticamente i pezzi, come dice il mio collega, vengono... Sono contatori. Anche una cosa minima che si rompe, tipo un gommino di un cambio, automatico, loro ti forniscono un cambio totalmente revisionato. Quindi tu per un danno che potresti riparare, se ti verrebbe fornito il ricambio, sei costretto a spendere cifre folli per fare i cammini. Tu mi hai raccontato una volta un particolare, vale la pena forse di raccontarlo, di una Aston Martin. Mi ha colpito molto, perché è una vettura quasi nuova, un tuo cliente. Vuoi provare a raccontarlo perché dà l'idea, non c'entra poco con l'autodepaca, ma dà l'idea proprio di come deve essere diverso l'approccio. Aston Martin, di questo mio cliente, 6-7 anni fa, comprata nuova, a circa 10.000 km, sull'autostrada Firenze-Mare, su una curva si è accesa la spia dell'olio, il cliente ha fatto appena in tempo ad accostarsi e sentiva dal motore un umore metallico. Visto che la macchina, diciamo, era ancora in garanzia, praticamente l'ha fatta prendere con i carattrezzi e portata all'officina autorizzata, i quali hanno constatato che il motore era fuso, si era fuso il motore. Senza olio. Il motivo era che la macchina era senza olio. Allora, il cliente aveva fatto il tagliando a circa 2.000 km, ne aveva fatti 8.000, e la macchina stava senza olio e gli è stato detto, no, ma lei ha guardato il libretto uso e manutenzione? Questa macchina consuma un chilo d'olio ogni 1.000 km, il che può essere giusto su un motore di cooperazione. È un po' tanto, sembra di dire. Comunque, siccome è scritto su un libretto uso e manutenzione, e il cliente è tenuto a leggere il libretto per utilizzare la macchina. E quindi, diciamo, l'Aston Martin si è scaricata. L'Aston Martin non ha potuto riparare, non ha potuto fare l'intervento in garanzia e il cliente ha detto, vabbè, allora fatemi un preventivo per riparare il motore. Gli è stato comunicato che il motore non si poteva riparare, ma doveva essere sostituito completamente, con cifre che non voglio stare qui. Più o meno, non possiamo dare l'idea, insomma. Torni ai 60.000 euro. 60.000 euro. Parliamo di un 12 cilindri di Aston Martin. È venuto da te, disperato? Sì, perché era un mio cliente che aveva già delle Ferrari. Praticamente l'Aston Martin forniva il motore completo. Non davano pezzi di ricambio. Vabbè, io ho aperto il motore, così anche a livello di curiosità, ho fatto un mio tentativo tecnico. Ho visto che il motore dentro, avendo 10.000 km, era perfetto. Solamente le bronzine di biella del secondo e terzo cilindro avevano ceduto. Per questo causa mancanza di lubrificazione. Allora, cosa ho fatto? Tramite internet ho chiesto delucidazioni a dei preparatori colleghi. A chi corre con l'Aston Martin. A chi corre con l'Aston Martin. Quindi ricambi, c'è la. Che fa lo stesso lavoro che faccio io. Mi hanno detto, guarda, non ci sono problemi. Noi ti possiamo fornire tutto il set di bronzine maggiorate in modo che puoi rettificare l'albero motore. Io ho ordinato questo set di bronzine dall'Inghilterra, ho rettificato l'albero motore, ho ricontrollato le bielle, ho rimesso in modo il motore. La macchina adesso ha 100.000 km. E' una cifra molto, molto, molto più contenuta. Il cliente ha speso intorno alle 6.000 euro. Che per rifare un motore è ragionevole. Vedete come alle volte si scontra di fronte a rigidità assurde da parte di alcune case. E questo, quando lo trasportiamo nel mondo dell'auto d'epoca, e attenzione perché le cifre possono diventare molto, molto importanti. Quindi se non hai veramente chi ha la voglia di aprire, di metterci le mani, di dire non si butta ma si ripara, veramente possono essere delle cifre molto differenti. Però quello che dico io, anche per esempio, anche nelle utilitarie, abbiamo parlato di Aston Martin, ma se noi prendiamo anche macchine piccole, oggi se succede un piccolo guaio, anche un utilitario ha costi eccessivi per ripare, perché molti non si revisionano più, non danno più i famosi kit di revisione, danno i ricambi completi. Faccio un esempio lampante. Una frizione di un'auto Fiat, un'utilitaria, se si rompe la frizione, uno è costretto a cambiare la frizione e anche il volano, perché c'è quel sistema bimassa per le vibrazioni. Quindi succede che una frizione di un'utilitaria oggi costa 8-900 euro per rifare una frizione in officina. Magari la macchia ne vale 3.000. Quindi la gente, in tempo di crisi, dovrebbe, le case costruttrici, pensare a cose diverse. E purtroppo ricambiare filosofia. Torniamo al mondo dell'autoclassica, dove però questi problemi si vivono, ovviamente, in maniera differente, ma ci sono. Alle nostre spalle c'è questa Bentley, che me la sento proprio qui sul collo, un'auto straordinaria, ne abbiamo già parlato, ma vorrei approfittare della presenza di Giuseppe, perché Giuseppe, essendo il meccanico di fiducia qui dell'All Cars, questa è una vettura dell'All Cars. Giuseppe, com'è questa Bentley dal punto di vista meccanico? Tu che ci hai lavorato, l'hai messa a punto, l'ho sentita in moto, in sei cilindri sembrava un gioiello. Com'è? È una classica motore inglese che ha... O di l'auto inglese qualche problemuccio lo dà. E appunto, che ha i suoi problemi di carburazione, di freni, di riscaldamento, come tutte le macchine inglese. Un bel quadro. Però... Però lui ci ha messo saggiamente le mani oggi. Ci vuole molto tempo. Tempo, ci vuole tempo. Tempo. E passione, perché altrimenti una macchina ti fa perdere giornate, vedi con molta calma e riesci. E quindi... E devo dire che Giuseppe mette le mani ovunque. Ogni giorno che passa scopro che... A prescindere dalla cilindra, al tipo di macchina... A prescindere da tutto. Lui sa mettere... Cioè, la capacità di non spaventarsi di fronte a un'auto che magari non conosci, che però, insomma... Ma sempre perché c'è la passione. Penso che questa spaventerebbe chiunque, eh. Quindi... C'è la passione e poco si fa. Che gli hai fatto ultimamente a... Carburatori. Poi... Carburatori che... Poi adesso devo verificare i freni. Ah, va bene. Quindi di motori... È un'auto ovviamente usata per... Utilizzo, quindi radunistico, cerimonie. Quindi poco utilizzata. Poco dirigata. Però abbiamo visto che talvolta utilizzarle poco... Peggio la giurazione. Poggio i nostri meccanici. Utilizzarle poco... Peggio la giurazione. Peggio la giurazione. Utilizzarle tantissimo. Vero. È così. Il primo insegnamento suo. Usatele, usatele, usatele. Le ferme si complicano. Especialmente gli inglesi. Soprattutto. Ma anche Ferrari... Con la corporazione. Non so che lasciarle ferme... Ferrari... Sono macchine... Sono dolori. Sì, sono dolori per impianti elettri, sono dolori per i freni. L'unica cosa che non dà problemi al Ferrari è il motore, perché quello è sempre non pusuta dei... Ecco, però vogliamo approfittare qualche minuto ancora di Mimmo, perché vogliamo sfatare questo mito negativo della famosa cinta di distribuzione, questo incubo di tutte le Ferrari degli anni 70, 80, 90. Ogni quanto va sbattirato giù un motore posteriore centrale di un Ferrari, perché non dolori. Parliamo di modelli tipo Testa Rossa, 348, 355, Mondial, quelle macchine lì per sostituire la cinta di distribuzione va montato completamente il motore e il cambio. Una volta la casa diceva di farlo ogni due anni. La casa diceva addirittura ogni due anni. Logicamente, oltre che l'onere a livello economico, tu capisci che era anche un po' fastidioso, perché vedere sempre ogni due anni, smontare il motore della macchina per cambiare cinta... Che costano un niente poi la cinta insieme. La cinghia in se stesso costa poco, ma la mano d'opera per arrivare al montaggio richiede molto tempo, insieme alla cinta vengono sostituiti tutti i paragoni. Perché Ferrari ha fatto questa scelta così? Perché il motore è posizionato centralmente e c'aveva quel sistema. Però ci sono dei motori difficili da smontare che però non richiedono la manutenzione ogni due anni. Allora, questo perché le cinghie che fornivano prima, loro per sicurezza, girando il motore a 8 mila giri, perché tutti quei motori giravano molto in alto, la Ferrari si teneva cautamente molto all'interno di quello che poi è l'effettiva durata della cinta. Ultimamente, diciamo da 6-7 anni a questa parte, è stato cambiato il materiale delle cinte, rinforzate con il Kevlar, con il carbonio, adesso raggiungono i 5-6 anni prima dello smontaggio e non fanno più 40 mila chilometri, ma 90 mila. È difficile che un ferrarista fa 90 mila chilometri prima dei 4 anni, però è stato allungato sia il chilometraggio che il tempo. Però è sempre comunque una manutenzione impegnativa. Sì, è impegnativa, però oggi è ridotta, tu la fai molto di meno. Una Porsche della stessa epoca richiede sicuramente molta, molta, molta meno attenzione. è un'altra tipologia di macchina. La Porsche è diversa, ha i suoi pregi e i difetti, come la Ferrari ha i suoi pregi e i difetti. Però voglio specificare che le ultime Ferrari addirittura montano la catena e sono esenti da qualsiasi manutenzione. E mentre passavano le immagini di Ferrari, ci hanno raggiunto in studio Elda Paglierani, lo conoscete, molto ormai noto di Classica Rappi, benvenuta Elda. Michela, che indossa un abito, siamo nella nostra rubrica dedicata al mondo della moda femminile, ormai lo sapete, e accostiamo alle auto straordinarie che abbiamo qui a Classic Garage, anche gli abiti che rappresentano il periodo storico della moda femminile, proprio perché l'automobile ha un impatto fortissimo nella vita, nel costume, nella società, e la moda femminile è un altro dei parametri davvero importanti per ricordare un'epoca, per meglio comprendere anche le nostre automobili. Elda, che anni siamo? 60-61? Siamo negli anni 60-61, la moda esplode, la donna si rende conto che attraverso lo stile ha un grande potere e quindi osa di più. I tessuti diventano molto più leggeri, i colori diventano pastello, come vediamo sulla modella abbiamo questo glicine, i verdi sono molto leggeri, i gialli, e i vestiti si allargano leggermente attraverso il famoso stile impero, cioè il taglio sotto al seno. Le gonne si accorciano, quindi si lascia la tendenza miti degli anni tristi e osano di più e si personalizzano tutti gli abiti. Icone di questi anni 60 sono Twiggy e Audrey Hepburn con colazione da Tiffany, famosissimo. In più un altro vocabolo che prende diciamo grande piede e non lascerà mai più nel vocabolario della moda è Little Black Dress che praticamente rappresenta il tubino che ancora appunto oggi nei giorni di oggi non ci abbandona. Il trucco è un trucco chiaro, imperversa l'eyeliner, gli occhi chiaramente corrispondono ai colori dei tessuti, quindi i verdi, gli azzurri, i rosa, sulla bocca abbiamo gli aranci e per quanto riguarda le acconciature nei capelli le donne sono molto pettinate, i volumi si ampliano, si cotonano i capelli, la donna però è molto pettinata, ha sempre i capelli raccolti oppure si accorciano i capelli con il famoso taglio a due livelli. In questo caso sulla modella vediamo la famosissima banana che chiaramente negli anni 60 imperversava. Devo dire che ci hai portato proprio nel periodo storico di questa straordinaria SL, siamo alla fine proprio degli anni 50, i primissimi anni 60, di lì a poco poi sarebbe esplosa anche la moda della minigonna ma siamo già un po' più avanti e come è cambiata poi tutta la moda dall'Inghilterra con la minigonna anche la 190 SL ha dovuto poi lasciare il testimone nel 63 alla prima serie della pagoda che è stata proprio una rivoluzione, come vedete moda e auto tante volte seguono veramente un percorso. La minigonna stravolge completamente la moda femminile dei primi anni 60 e della fine degli anni 50 e la pagoda con le sue linee tese, con la sua modernità spazza via la 190 SL che invece era figlia degli anni 50 con una linea straordinaria che però poi ovviamente era stata un po' dimenticata negli anni e che oggi è diventata però un'icona proprio assoluta dell'automobile elegante. Bene, siamo in chiusura di questa puntata dei Classic Garage con questo bel momento dedicato alla moda femminile ringraziamo Elda Pagliarani la nostra Michela, naturalmente tutti i nostri ospiti e l'appuntamento come sempre con Classic Garage con Carlo Braccini, i suoi ospiti qui dall'All Cars di Roma per raccontarvi le storie delle automobili che ci fanno innamorare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!